Signore e signore, l'angolo a sinistra. In quest'angolo, da Patterson, New Jersey, in calzoncini bianchi con patta verticale nera, Rubin, Harry Kane, Carter! Per gusto gli hanno dato tre condanni a vita e per cosa? Per omicidi che non ho commesso. Non ho più niente, perciò venite, sono tutto vostro! Se vedete un uregano, allora entrate e vedrete l'uregano! Ma di cosa ti rendi conto? Quel porco di un negro pensa di essere il campione del mondo. Rubinare che il Carter ha fatto tutto il campione del mondo dei Paisi Waver, Emil Griffith! Cerchiamo due negri su una macchina bianca. Due qualsiasi. Non spero di incastrarmi per omicidio, ma ho brutte notizie perché non ti riuscirà. Trascinerò il tuo culo nero in prigione. La giuria riconce gli imputati Rubin Carter e John Artis, colpevoli per tutti i capi d'accusa. Vi sbagliate! Io sono innocente. Non ho commesso alcun crimine. Organizzerò il mio tempo in base al mio orologio interno. Quando la prigione sarà sveglia, io dormirò. Quando loro dormiranno, io mi alzerò. Non vivrò né in questa cella, né nel mio cuore. Solo nella mia mente. Sono morto. Sei bellissimo, ti prego. Secondo te ho ucciso quella persona. Non lo so, Rubin.